bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xyuder e ragazzi anche oggi un sacco di novità per quello che riguarda la giornata di oggi di fortnite sì perché tutti stiamo aspettando l'arrivo dei veicoli insieme all'arrivo delle sfide della settimana 6 parleremo di questo anche nel video ma parleremo anche di alcune modifiche che non avete visto e di un upgrade molto interessante alla canna da pesca prima però volevo ringraziare tutti i ragazzi che ogni giorno mi supportano nello shop con il mio codice creator xyuderone grazie mille ragazzi per il vostro sostegno mi raccomando non dimenticatevi di iscrivervi ai miei canali e soprattutto di attivare la campanella per non perdere nessuna notifica con i miei video news e loro andiamo direttamente a parlare del primo argomento di oggi ed è una notizia interessante che non è stata resa pubblica in realtà da ip games durante la pace 13.30 tutti i ragazzi tutti voi che avete shoppato il piccone combo cleavers insomma le due spadone forse non si sono resi conto che è disponibile una nuova variante in poche parole ragazzi da doppio diventano anche singole diventa proprio un piccone unico una cosa che appunto non è stata detta una delle piccole modifiche ci tenevo a farvelo sapere se doveste avere nel vostro inventario questo doppio piccone beh dateci un'occhiata provate a cambiare gli stile e provate a giocarlo anche con due mani e andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi perché ci sono delle notizie super interessanti per i regali che dovrebbero arrivare durante il summer splash e più precisamente durante i giorni del compleanno di fortnite che vi ricordo è il 25 luglio il terzo compleanno dovrebbero essere le due i due oggetti trovati anche nella scorsa patch zest lemon zest che è il nome della copertura animata e iron clouds che come vedete invece è un piccone doppio non abbiamo ovviamente la certezza che siano regalate ma fonti molto affidabili ci dicono che sarà così e devo dire che ci sta perché come regalo di compleanno noi sappiamo che c'è la torta come backpack con il numero 3 ma di solito fanno anche qualche altro regalo gli anni scorsi ci avevano dato gli adesivi gli spray se non ricordo male anche la musichetta di background ecco l'unica cosa che io odio del compleanno di fortnite è il rumore della musica di compleanno che c'è quando sei sul battle bus dell'autobus è bellissimo la musichetta mi fa venire un nervoso incredibile quindi ragazzi tanta roba qualche giorno di attesa e secondo me questi due regali arriveranno ben presto nei nostri armadietti e andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi perché oggi dovrebbero arrivare i veicoli ce lo conferma o meglio ci fa ben sperare una delle challenge che sono state trovate nella precedente patch dove ci dice appunto gas up a vehicle at catty corner che vorrebbe dire rifornisci di benzina un veicolo a gatto grill purtroppo però mentre stavamo parlando di questo argomento ho trovato anche una conversazione intanto queste sono tutte le challenge di questa settimana non c'è niente di difficile effettivamente cercare forzieri fare danno piazzarsi in top 25 quindi non serviranno video esplicativi ma questa ragazzi è una conversazione che sembrerebbe far parte di un utente estero che porta l'x direttamente con un utente molto molto vicino al team di epic games e lui dice hi the cars challenge is disabled lui ha scoperto che la challenge che vi ho detto poco fa in realtà è già stata disabilitata l'altro dice really veramente ma le macchine escono domani inteso come oggi e lui dice io so maybe cars not release tmr vuol dire tomorrow molto probabilmente le macchine non verranno rilasciate e lui dice rip e lui gli risponde se loro però riattiveranno prima delle 15 di oggi la challenge è molto probabile che le auto vengano rilasciate ora io ragazzi non so bene cosa dirvi perché la data ufficiale di uscita dei veicoli era il 21 hanno posticipato e allora perché mi ha inserito una challenge dove devi fare rifornimento io sono molto speranzoso secondo me oggi alle 15 abbiamo i veicoli anche perché sono stati trovati degli altri leaks davvero interessanti per quanto riguarda i veicoli abbiamo dei nomi types of drivable car quindi tipi di macchine guidabile abbiamo la basic sedan la sports car il pick up track e il semi track poi ci abbiamo more types ma molto probabilmente saranno non saranno disponibili quindi è proprio da prendere con le pinze police car taxi cab basic car tipo la sedan basic track simile al pick up e big rig che è molto simile al semi track non sappiamo ma ne avevamo già viste alcune ragazzi avevamo visto anche una volta che si poteva interagire ma in realtà non era possibile farlo con alcuni muletti in giro quindi non sappiamo in realtà che cosa abbiano in testa quelli di epi games c'è da dire che se metteranno veramente la possibilità di guidare tutti i veicoli o comunque la maggior parte dei veicoli presenti in mappa beh il divertimento sarà sicuramente assicurato ma credo che vogliano essere sicuri di metterle fuori correttamente prima di fare le solite castronerie quindi bug con gente che entra nei cavo con le macchine che poi va sotto la mappa fan casino io so già come va a finire like carrello della spesa e andiamo avanti ragazzi questa è per pochi molti di voi non hanno neanche mai visto il carro della spesa abbiamo anche un altro leak ragazzi del petrol jerry cans praticamente sappiamo che vi ho già detto la possibilità di mettere benzina nei veicoli sarà data oltre che dalle pompe di benzina presenti in mappa anche dalla possibilità di trasportare le tanniche di benzina vi ricordo di nuovo che noi possiamo sparare alle tanniche che faranno 99 di danno ai giocatori 250 ai veicoli e poi sappiamo una cosa nuova it takes one one point five seconds to fuse them ci vorrà da un secondo a un secondo e mezzo per riempirla you can refuel the jerry cans with gas pump noi una volta che abbiamo terminato di utilizzare una tannica di benzina se andiamo ad un distributore possiamo refillarla nuovamente quindi non c'è bisogno di cercarne un'altra ma possiamo riempirla di nuovo di benzina e poi come vi ho detto appunto i danni che fanno all'esplosione quindi ragazzi incrociamo le dita io sono in live su twitch lo sapete speriamo che alle 15 escano anche i veicoli e andiamo avanti perché ci sono delle notizie davvero interessanti sembrerebbe che c'è una challenge segreta che richiede di pescare un numero ancora non definito di pesci sembra addirittura che potrà arrivare nello stile delle autumn quest quindi la challenge in realtà c'è ma non è ancora abilitata in game e secondo me faranno un qualcosa tipo pescate tutta la community 3 milioni di pesci se ce la fate entro tot giorni vi regaliamo una copertura animata è successo ragazzi è successo nel capitolo 1 quando ci hanno dato la copertura foglie d'autunno parliamo quindi dell'anno scorso se non ricordo male potrebbe succedere e tra l'altro ragazzi abbiamo anche delle informazioni aggiuntive perché noi leggiamo special event start è stato aggiornato quindi parliamo sempre della cartella dedicata a questo evento globale e special event challenge preview special event challenge quindi esiste bisogna solo aspettare quando arriverà e appena arriverà lo dirò anche a voi eventualmente anche sulla mia pagina instagram ma andiamo avanti a parlare del prossimo argomento perché questa immagine che una volta doveva essere un concept in realtà sembra rivelarsi vera e si ragazzi perché abbiamo due nuovi pesci che arriveranno prestissimo forse addirittura nella prossima patch nel nostro battle royale il pesce meccanico e il pesce battle il battle fish e si pensa anzi si è scoperto che stanno lavorando su un potenziamento della canna da pesca quindi facendo un upgrade alla canna da pesca sarà possibile ottenere pescate migliori abbiamo proprio due righe dedicate trovate nei file di gioco che dicono this fishing rod codename was added this update il nome di questa canna da pesca è stata aggiunto nella patch 13.30 e si chiama rod pro compare to the original fishing rod codename rod quindi appunto il nome in game della canna da pesca è rod e rod pro è probabilmente la possibilità di upgradarla e quindi di pescare in modo migliore insomma ragazzi io anche oggi tutte le news ve le ho dette vi ringrazio tantissimo per avere guardato questo video mi raccomando non dimenticate di iscrivervi ai miei canali e a me mi trovate proprio adesso in live su twitch ciao 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 ciao